2, 1, vai! Rottoraggio è posto così! Sì, sì! Sì, è rotto! Dai Gioca, lui ha vinto eh, però Guarda è sceso a controllarsi perché si è intestrato tutto Ho rotto tutto, hai rotto tutto, però ha illuminato la pigna, quindi voglio dire E lui oggi ha vinto anche come mister canotta perché era l'unico Giusto? Ho fatto a posta Hai fatto bene, ma c'è mancato 3, 2, 1, vai Che dura, che dura Numero 1 Ha 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 Ho 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 Cazzo che lungo! Sono sorecchia, ti ha battuto alla volta!